Questo è quello che succede quando si fuma troppo. Io non ho fumato, però ho lavorato negli ambienti fumosi, discoteche, bar. Lavoravo di giorno nel bar, alla sera nelle discoteche e questo è il fumo passivo. Quello che ho respirato probabilmente, dopo dicono che sia anche il peso, ci vuole, bisognerebbe dimagrire, però evitate se lo potete, non fumate gente perché questo non è bellissimo dormire così, ve lo posso assicurare io. La maschera con l'ossigeno addirittura. La macchinetta, la chip up. Dicono che anche se non fumavo succedeva perché sono abbastanza grasso. Buona serata ragazzi.